Io avevo detto che non indosso la mascherina perché ovviamente le misure del distanziamento sociale, almeno negli ambienti in cui io mi trovo, posso rispettarle. Ho detto che è importantissimo l'uso della mascherina, lo voglio ribadire. Intanto voglio ribadire che l'ordinanza della Regione Lombardia va rispettata, perché ovviamente un'ordinanza si rispetta. E' importantissimo l'uso delle mascherine, soprattutto in quegli ambienti in cui non si riesce a rispettare in modo rigoroso la distanza e quindi in metropolitana, nei mezzi pubblici, nei supermercati. Le mascherine sono importanti perché evitano la diffusione del contagio. Dobbiamo ricordare dal punto di vista tecnico scientifico che le misure per contrastare la diffusione di questa infezione sono da una parte il distanziamento fisico, dall'altra il lavaggio delle mani. Io credo che il passaggio veramente importante è il tema dei luoghi confinati, nei luoghi confinati dove può essere più difficile avere il mantenimento delle distanze, quello è un tipo di misura che certamente aiuta. Le modalità con cui si possono condurre sono le più molteplici. A me preme ricordare che ci sono le mascherine cosiddette chirurgiche, quelle del personale sanitario, hanno delle caratteristiche molto specifiche e hanno delle caratteristiche di filtraggio particolari che sono necessarie proprio nei contesti sanitari. Per la popolazione sono previste mascherine anche di livello di filtraggio un po' più basso perché sono esposte a un rischio molto più limitato onestamente. Nel nostro paese si è avviato una fiorente attività di produzione di mascherine, mascherine ad uso della popolazione. L'istituto superiore della sanità per quanto riguarda le mascherine chirurgiche ha ricevuto una serie di richieste che vanno autorizzate per la mascherina uso della popolazione non ci sono particolari formalità e su questo ci può spiegare meglio lui, quindi io credo che le produzioni che si sono avviate consentiranno di rendere possibile la fornitura delle mascherine a tutta la popolazione.